Il giusto rub o la giusta marenatura porteranno le vostre cotture a un livello superiore. Siamo arrivati al terzo modulo di questo percorso e affronteremo il trimming, il seasoning e vedremo anche due ricette super interessanti. Uno spinaccino di manzo marinato al rum e delle costine con un gusto e una salsa finale incredibile. Cucinare al barbecue ti diverte ma ti manca qualcosa? Ci pensiamo noi su Accademia.tv